Benvenuti a Funamboli, questa sera come sempre iniziamo con gli italiani che ogni giorno portano avanti questo paese. Io, Daniele Giordani, atelier creativo del legno. Benvenuto. Cosa fa lei nella vita, anche se un po' lo capiamo? Io per 35 anni ho fatto il falegname con una falegnameria grande. Cosa sta facendo adesso esattamente? Adesso sto usando un tornio a pedale per tornire la gamba di uno sgabello. Mentre lei usa il tornio, si chiede se la politica risponde ai suoi desideri, bisogni? Che ne pensa? Me lo chiedo in continuazione e sono qua ancora che aspetto di vedere dei segni. Un difetto della politica e dei politici? Guardare in faccia le persone, dovrebbero guardare in faccia le persone. Non dico stare in mezzo alle persone che non è semplice, però guardare la realtà con i miei occhi, con quello che vedo io. Allora, questo è l'angolo dell'artigiano, grazie. Tra poco torniamo da lei e dal suo collega, presenteremo anche il suo collega. È una puntata particolare, si parla di politiche della destra. Dopo la manifestazione di sabato con noi c'è un ospite importante che è la storia della destra di questo paese. Lui è Gianfranco Fili, ma come sempre andiamo con ordine e partiamo dalla sigla. Un programma in collaborazione con Primi in Europa. Scegli la qualità dei farmaci Teva. Scegli la qualità dei farmaci Teva. Yes, ok, in diretta per tutto lo stivale. Sì, in diretta direttamente dalla capitale. Abbiamo un ospite speciale, sì. Gianfranco Fili, sì. Ex alleanza nazionale. Ho un politico alle spalle, aiuto. Faccio introduzione qualche minuto. Sì, sì. Faccio tre lavori e l'ennesima notte in bianco. Vuoi sapere com'è l'Italia? Sì, l'Italia? L'Italia è una spina nel fianco. Sì, è normale, è chiaro che sono stanco. Questa sera abbiamo un ospite, abbiamo Gianfranco. Sì, direttamente da Roma. Come l'Italia? L'Italia è in coma. Sì, abbiamo fini che fa rima con Salvini, ma non vanno tanto d'accordo. A me non è che me ne frega perché io rimango sempre un cento e un soldo. Sì, questa parte improvvisata, lascio la parola a Leandro, sta iniziando la puntata. Yes! Diamo il benvenuto, già che ci siamo, l'abbiamo visto, a Gianfranco Fili, buonasera. Buonasera a lei e ai telespettatori. Complimenti al rapper. Ecco, non so che gusti musicali ha. Noi abbiamo il rapper che poi farà anche l'editoriale improvvisato alla fine su quello che dirà. Va bene? Sì, sì, ognuno fa il suo mestiere. Ognuno fa il suo mestiere, bisogna vedere dopo cosa dirà. Grazie Val, ci vediamo dopo. Allora, questa è una puntata particolare perché noi faremo confrontare Gianfranco Fili con voi attraverso i social e con i ragazzi che sono presenti all'interno del nostro studio. E allora, partiamo però subito con quella che noi chiamiamo la Gratico, la Presidente, dove le facciamo un po' di domande per capire innanzitutto, insomma, tastare un po' il polso. Allora, noi sappiamo che lei è stato naturalmente il Segretario del Movimento Sociale Italiano, Presidente di Allianza Nazionale, Vicepresidente del Consiglio, Ministro degli Esteri, Presidente della Camera, Leader di Allianza Nazionale e Presidente di Futura e Libertà, fuori dal Parlamento del 2013, oggi Presidente della Fondazione Libera Destra. La prima domanda è che sta facendo da quando non fa parte, diciamo, della politica attiva all'interno delle istituzioni? Beh, lo ha detto lei, Libera Destra è un'associazione che ha l'ambizione di dare qualche contenuto alla politica della destra italiana, quindi più che discutere quotidianamente, come ho fatto per tanti anni, con questo o con quell'avversario, con questo o con quell'alleato, cerco di guardare un po' più avanti e di affrontare i problemi della società italiana ed europea, ovviamente dal mio punto di vista. Più un'attività culturale che politica. Ecco, le manca l'attività politica attiva o meglio, al tempo di fare cose diverse, se sì che cosa? Oltre alla fondazione che ovviamente abbiamo già accennato, ma anche cose personali, che ne so, più tempo per la famiglia, per lo sport, non lo so, per capire un po'. Beh, non c'è un brevi dubbio che la qualità della vita è diversa e per certi aspetti è anche migliore, quindi più tempo libero, più possibilità di dedicare un po' di ore del giorno agli affetti, agli interessi privati. Senza comunque smettere di far politica nel senso letterale della parola, la politica non è solo stare in Parlamento, ci sono stato 30 anni, la politica è l'interesse generale della polis e quindi si può dare un contributo anche senza avere i riflettori puntati addosso, come mi è capitato per tanti anni. Senta, prima di coinvolgere i ragazzi nella nostra discussione, volevo fare un ragionamento sui voti, che la destra, e parliamo di destra anche dopo quello che è successo sabato con la manifestazione a Roma di Salvini, Meloni e Casa Pound. Beh, la riflessione sui voti. La destra aveva 5 milioni di voti nel 2006, Fratelli d'Italia oggi viaggia tra i 500 mila e un milione di voti a seconda delle elezioni che si vuole guardare. La prima domanda è che fine hanno fatto secondo lei gli elettori, se la destra esiste ancora e se ora è nelle mani, per esempio, di Matteo Salvini. Ma io ne parlerei al plurale, nel senso che esistono vari modi per concepire, quindi poi per declinare una politica di destra. Salvini ha imboccato una strada che non è molto diversa rispetto a quella di altri leader europei, non a caso il suo riferimento quasi quotidiano è all'esperienza francese di Marine Le Pen. Io credo che per l'Italia oggi occorrerebbe una destra diversa, se proprio dobbiamo guardare alla Francia non ne abbiamo l'obbligo, ma sempre per rimanere col paragone di Salvini preferirei guardare a Sarkozy più che a Le Pen. Quindi non la destra, ci sono vari modi per concepire questa appartenenza, questa categoria. Comunque non da oggi io ritengo che le etichette da sole non significano più nulla, perché dovremmo ragionare non tanto di destra, centro e sinistra, quanto dei problemi che ci sono e delle soluzioni che si prospettano se si vuole fare l'interesse nazionale. E' la stessa frase che ha detto Matteo Salvini quando in questi giorni l'hanno accusato di andare a fare manifestazioni con Casa Pound. Poi ci torniamo. Presidente, io vorrei farle vedere un po' di foto che commentiamo insieme. Sono foto di politica e foto attuale, foto che ripercorrono anche un po' la sua storia personale. Andiamo con la prima foto. Ecco, togliamoci subito il pensiero. Questa è la vicenda che Libero ha tenuto in piedi per un po' di tempo sul suo giornale, la famosa Casa di Monte Carlo. Cosa le ha fatto più male di questa vicenda e che è rimasto di quello? No, beh, è rimasta la impressione, qualcosa di più, la certezza di una campagna mediatica forse nata. Io sono un giornalista professionista, quindi non accuso certo i colleghi, basata su una vicenda che mi vedeva del tutto estraneo, perché io sono stato in Parlamento per 30 anni, vado orgoglioso solo di una cosa, non ho mai ricevuto neanche un avviso di garanzia, e anche su questa vicenda dell'appartamento la magistratura ha indagato e archiviato, perché non c'è alcun tipo di responsabilità. Andiamo avanti con le foto. Seconda foto. Però, insomma, la stampa fa il suo mestiere. Quindi la stampa fa il suo mestiere, anche in quel caso, non ha esagerato? L'aveva detto cose un po' diverse all'epoca. Beh, no, no, no. Ci sono anche delle cause pendenti in tribunale. Qualcuna l'ho anche già vinta, poi, siccome ci sono tre gradi di giudizio, occorre attendere sempre l'ultima parola della magistratura. Poi, il giorno che saremo arrivati al termine della vicenda, magari lo dirò, insomma. Va bene, e terremo informati i nostri telespettatori anche noi, magari l'arriveremo in questo studio. Noi andiamo avanti con le foto, però, perché vorrei farle vedere questa immagine e vorrei un suo commento. Ecco, questa è la destra, lei parlava di destra in Italia. Queste sono due destre in Italia? Cioè, Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Le due posizioni oggi sono, sì, sì, le due posizioni sono molto simili. Di fatti, io credo che l'onorevole Meloni stia sbagliando, glielo dico in modo sommesso, ad appiattire, diciamo così, i fratelli d'Italia su posizioni che sono quelle tipiche della Lega, vale a dire l'anti-europeismo. Io sono stato al Parlamento europeo, ho avuto l'onore di fare il Ministro degli Esteri, non considero l'Unione Europea oggi una costruzione perfetta, crea tanti problemi, ma non si può demolire l'Unione Europea, bisogna riformarla. Faccio un solo esempio, quando si dice l'Euro ci sta rovinando, io non credo che sia la moneta unica che ci rovina, la moneta unica è indispensabile, ma occorrono delle politiche comuni e quindi uniche, anche da un punto di vista fiscale. L'artigiano che prima abbiamo visto al Tornio ha in tasca lo stesso Euro che ha in tasca un collega tedesco, è che il collega tedesco paga molto meno tasse di quelle che paga lui, quindi parlare di Unione Europea secondo me significa parlare di politiche fiscali comuni, non solo di politiche monetarie comuni. Ci torniamo e la faccio confrontare con l'Artigiano, ma torniamo anche sul tema Euro. A proposito invece dei personaggi della politica, guardi quest'altra foto, vorrei chiederle se lei senti di avere qualcosa in comune con queste due persone che sono Alfano e Fitto e se ci sono delle differenze. Ciò che vi accomuna è una litigata con Silvio Berlusconi, la riassumo in maniera semplicistica, mi consente. Sì, molto semplicistica perché io sono stato alleato per tanti anni di Berlusconi, abbiamo governato insieme, siamo arrivati però ad un punto in cui io mi sono trovato, me lo permetta, di fronte alla mia coscienza perché su vicende importanti, a partire da quelle collegate alla legalità e che cosa si debba intendere per legalità, abbiamo avuto delle valutazioni profondamente diverse, ognuno ha preso la sua strada io non me ne sono andato come qualcuno dice, io sono stato messo alla porta perché lo criticavo in modo esplicito assumendome la responsabilità, credo che Alfano e Fitto, che pur hanno storie diverse dalle mie, perché loro sono nati all'interno di Forza Italia, io ho fatto l'alleanza con Berlusconi avendo alle spalle una storia politica, grande o piccola che sia stata, credo che Alfano e Fitto stiano verificando, abbiano verificato quanto è difficile far comprendere a Berlusconi che a volte si devono avere delle opinioni diverse, non si possono avere. Io ne approfitterei per parlare anche della politica dei prossimi mesi, per esempio se Fitto le proponesse di fondare un centro-destra alternativo a Berlusconi, lei cosa risponderebbe? Sempre se ha voglia di tornare nell'arena? Io non credo agli uomini per tutte le stagioni, non mi piace Renzi quando parla della rottamazione perché non si possono buttare a mare esperienze, storie, ma certamente occorre rinnovare la politica quindi il mio auspicio è che il centro-destra risorga dalle ceneri in cui si trova oggi, anche soprattutto attraverso volti nuove e, me lo permette, idee nuove. Oggi la difficoltà che ha il centro-destra nei confronti di Renzi è che Renzi, seppur con un modo che qualche volta dà fastidio, è un po' bullo, però sta cercando di rinnovare la sinistra, ne paga anche il conto, la polemica quotidiana con la sinistra più radicale del suo partito, ma è un personaggio, Renzi, che sfida in qualche modo il futuro. Il centro-destra tra Salvini e Berlusconi dà più l'impressione di guardare al passato o di difendere delle posizioni piccole o grandi di privilegio già acquisite, piuttosto che lanciare soprattutto ai più giovani un progetto, un messaggio per il domani. Quindi vediamo se nel futuro a destra nascerà qualche cosa. Io ne sono convinto, ma ci vorrà vedere. Se nascesse qualcosa confitto, lei tornerebbe a candidarsi alle prossime elezioni, se ha già una risposta a questo, naturalmente. No, io le ripeto, io dopo 30 anni di Parlamento sono più che convinto che si possa e si debba far politica, perché tutti i cittadini dovrebbero sentire un interesse per la politica anche fuori dalle aule di Montecitorio. Quindi insomma no, la risposta è no. Il importante, ripeto, è mettere delle idee in circolo. Ho capito. Mi dà l'occasione per spiegare meglio questo concetto, perché altrimenti rischiamo... C'è tutto questo tema adesso dell'immigrazione fuori controllo, dell'immigrazione che rischia di esporre l'Italia a seri rischi, perché non c'è dubbio che c'è anche il pericolo di infiltrazioni da parte di gruppi armati. Io sono con Bossi, colui che ha fatto quella legge, che porta ancora il mio nome, che regola la materia in base ad un principio, chi entra clandestinamente in Italia va espulso, rimane in Italia chi ha il permesso di soggiorno e acquisisce il permesso di soggiorno se hai un contratto di lavoro. Perché lo ricordo? Perché i migranti che arrivano oggi dal canale di Sicilia sono molto, molto diversi rispetto a coloro che arrivavano dall'Albania quando facemmo quella legge. Oggi coloro che arrivano sulle nostre coste non possono essere trattati come dei migranti che vengono qui per cercare lavoro. La prima cosa che fanno, chiedono e hanno il diritto di farlo, asilo politico perché fuggono da paesi in cui è in atto una guerra civile, fuggono dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Siria, dall'Africa subsahariana. L'Italia ha il dovere di dare l'asilo politico perché facciamo parte delle Nazioni Unite, non possiamo cancellare le convenzioni internazionali. Allora il problema che pone la Lega, che pongono altri, della immigrazione fuori controllo, è un problema reale, ma non si risolve con le oscenità che qualche volta qualcuno dice se non partissero non affogherebbero, lo ha detto Salvini qualche giorno fa, o men che meno con delle proposte strampalate, facciamo un blocco navale così non arrivano. Questo è uno dei tanti problemi che si può risolvere soltanto se tutti i paesi europei fanno la loro parte. Presidente, io la pubblicità... Senza noiare, senza entrare in tecnicalità, è il trattato di Dublino che va cambiato. Chi segue queste materie sa a cosa mi riferisco. Io adesso allargerò subito dopo la pubblicità questa chiacchierata che stiamo facendo ai ragazzi in studio. Ci sono altre cose che vorrei chiedere anche riguardo ai suoi ex amici, diciamo compagni di partito, ma ne parliamo con calma tra pochissimo dopo la pubblicità. Bentornati a Funamboli, Stefania Sirtori alla zona del web. Buonasera Leandro, buonasera a tutti. La nostra linea diretta è sempre con il mondo dei social. Potete scriverci, commentare oppure fare domande attraverso il nostro profilo Facebook Funamboli oppure sulla pagina Twitter Chiociolina Funambolismi. Come sempre, noi siamo qua a raccogliere le vostre domande e le vostre... C'è qualcosa che hai trovato su... No, in merito a quanto chiedevi prima a Gianfranco Fini, sui suoi ex compagni di partito, c'è Maurizio Gasparri che scrive, presupponendo che appunto Fini voglia tornare in politica attiva, dice ha ancora qualche interesse politico e ambizioni ma non ha voti. Allora io farei rispondere al Presidente, insomma raccogliendo prima un po' di domande. Intanto le presento i ragazzi che abbiamo in studio, sono tanti, benvenuti. Le presento naturalmente tutti voi a chi ci segue da casa e cominciamo da... Presidente, buonasera. Dite sempre il nome e da dove così partiamo. Presidente, buonasera, sono Nicola Fraschini, ero tra i dirigenti nazionali del Movimento Giovanile di Futuro e Libertà, quindi l'ho seguita in tutta la sua avventura fino al 2013. Io avevo due domande per lei. Innanzitutto, anno 2010, quando lei aveva fatto la scelta di sfiduciare Berlusconi, non penso di aver assolutamente sbagliato le valutazioni, nel senso di aver sottovalutato quella che era la forza economica di Berlusconi nell'acquisto dei deputati e dei senatori? E la seconda domanda, tenuto conto che nel 2011 Futuro e Libertà, nonostante la sconfitta del 2010, quella del 14 dicembre, era ancora un partito forte. Come mai decise di affidarsi Italo Bocchino, la cui conduzione fu oggettivamente fallimentare? Risposta di Fini, prego Presidente. Fin da quando ero un ragazzino, 17-18 anni, sono stato abituato a pensare che se una cosa la ritieni giusta, la fai a prescindere dal fatto che ti possa tornare utile. Se non avessi agito così, non mi sarei iscritto al Movimento Sociale in una città come Bologna alla fine degli anni Sessanta, preistoria, ma ti posso garantire che non era semplice all'epoca. La sfiducia a Berlusconi la consideravo necessaria per impedire che il Paese finisse in una catastrofe finanziaria, perché eravamo alla vigilia di quel momento. Poi hai ragione tu, Berlusconi ha tante capacità seduttive e ci fu qualche parlamentare che cambiò idea. il voto della mozione di sfiducia gli fu favorevole, le cose poi presero la piega che tu conosci, che forse conoscono anche i telespettatori. Non condivido il giudizio liquidatorio su Italo Bocchino, ha fatto quel che poteva, anche lui pregi, difetti, come tutti a partire da me. Io all'epoca ero Presidente della Camera, non potevo ovviamente essere contemporaneamente anche il dirigente di un partito, proprio per il doveroso rispetto nei confronti dei ruoli. Andiamo avanti con le domande. Buonasera Presidente, Riccardo, 29 anni di Milano. Una domanda, lei ha prima parlato quanto non fosse facile essere giovane non di sinistra qualche anno fa. Dal 1 gennaio 2015 una delle persone condannate per l'omicidio di Sergio Ramelli è diventata primario di un importante ospedale di Milano, di un reparto. Volevo sapere, Gianfranco Fini, cosa ne pensa di questo fatto? Non è un po' scandaloso una persona, ripetiamo, condannata con sentenza della Cassazione per questo omicidio? Figurati, conoscevo la famiglia Ramelli, ho partecipato al dolore che non fu solo della famiglia ma di un'intera comunità. Al momento non ricordo a chi ti riferisci tra coloro che furono imputati e poi condannati. A Claudio Scazza. È evidente che è essenziale che abbia scontato la pena e l'abbia scontata fino in fondo. Tu sai che il nostro è un sistema giudiziario in cui il fine pena mai è scritto in calce a qualche sentenza, ma poi per tante ragioni c'è sempre la possibilità, anche se si è condannati, non all'ergastolo, ma a molti anni di galera, di rientrare nella società. È una concezione della giustizia che è ispirata non all'occhio per occhio, dente per dente, ma alla riabilitazione dell'imputato. Mi auguro che se quel colpevole di ieri, oggi primario, guarda dentro di sé, comprenda non soltanto quanto male ha fatto e di quale crimine si è macchiato, ma gli auguro di poter dormire in pace con se stesso se ha una coscienza. Non credo che gli sarà facile. Io vorrei, nel racconto che stiamo facendo di quello che è stato, e poi tra pochissimo, ma l'abbiamo già fatto, parliamo anche di Renzi e di quello che sta facendo, accompagnare il racconto di questa serata anche con delle immagini che riguardano, li definirei, non lo so, me lo dirà Gianfranco Fini, gli ex amici. Allora, partiamo da questo estratto che riguarda Giorgia Meloni, fratelli d'Italia, dopo che era stata definita la mascotte di Salvini proprio da lei, credo Presidente, giusto? Sì, una battuta ironica, non so se si è offesa. Si è offesa ma un pochino, le faccio vedere questo estratto brevissimo. Senta, Gianfranco Fini l'ha definita mascotte di Salvini? Beh, guardi, io e Gianfranco Fini non condividiamo tante cose da quando Gianfranco Fini ha ammazzato la testa italiana perché io cerco di ricostruirla, dopodiché ognuno sceglie di essere quello che è. Io non sono mai stata mascotte di nessuno, in compenso qualcun altro ha deciso di essere la mascotte degli interessi della grande finanza, della massoneria e delle lobby e dei potentati. Non si è sentita offesa? No, mi sono sentita offesa solo quando Fini ha ammazzato la destra italiana. Può rispondere per cortesia a questa cosa? Lei ha ammazzato la destra italiana, come dice la principale esponente di un partito che raduna molti i suoi ex amici. Io li difisco così, mi correga se sbaglio. Ma guardi, è tutto relativo al mondo, nel senso che io sono diventato il segretario del Movimento Sociale tanti, tanti anni fa, al termine dell'esperienza di Giorgio Almirante. Il Movimento Sociale all'epoca raccoglieva attorno al 5% dei voti, poi con l'esperienza di Pino Rauti scese al 3%, se non ricordo male. Io ho portato alleanza nazionale, ma insieme a tanti, compresa Giorgia Meloni, che è molto più piccola di me, ad una percentuale del 15%, e ho fatto sì che tante donne e tanti uomini di destra assumessero responsabilità importantissime. Giorgia Meloni è stata ministro, e ci fu qualcuno che si chiamava Fini che la indicò a Berlusconi perché facesse il ministro, è stata vicepresidente della Camera, ma è storia di ieri. È un'ingrata! È chiaro che se si preferisce... No, 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 assolutamente. No, no, assolutamente. Guardi, c'è un'epigrafe di Marziale, duemila e più anni fa, che dice che nella Repubblica, quindi nella politica, la gratitudine è il sentimento della vigilia. Per cui non ha senso dire se è ingrato, se è ingrato. Lei ha diritto di cambiare le sue opinioni, così come io ho il diritto di mantenere le mie. credo che quella destra di governo che lei ha rappresentato, perché ripeto è stata ministro della Repubblica, fosse profondamente diversa rispetto alla destra che lei oggi interpreta. Ma non solo perché non urlava nelle piazze gli insulti che Salvini ha lanciato l'altro giorno nei confronti di un po' di tutti, ma soprattutto perché aveva una cultura di governo, o perlomeno sperava, pensava di avere una cultura di governo. Ragazzi, secondo voi... Vedi, c'è una distinzione di fondo, a costo di essere pedagogico, mi permetta, ma è il pregio di avere più di 60 anni. Un conto è la politica, un conto è la propaganda. Io ho fatto decine di migliaia di comizi in vita mia e credo di sapere cos'è la propaganda. La politica è un'altra cosa. Quando Sipras ha vinto le elezioni in Grecia, lo ha fatto con un programma anche affascinante. Vado a Bruxelles, cambia tutto, la Troica smetterà di prendere la Grecia per il collo, usciremo dall'euro. Poi, una volta che è diventato primo ministro, a Bruxelles c'è andato, ma è sceso a miti consigli, non perché abbia cambiato opinione, ma perché si è accorto che per realismo politico e anche per senso di responsabilità, o a Bruxelles accettava il compromesso che è stato prospettato dai partner, oppure la Grecia era fallita. Sarebbe stato un disastro anche per coloro che avevano votato Sipras. Questa è la differenza tra la politica e la propaganda. Altra domanda da parte dei ragazzi in studio. Chi parla, ragazzi? Complimenti per il gilet? Come ti chiami? Stefano. Stefano, quanti anni hai? 21. 21. Io vorrei voler arricciarmi appunto sia alla sua analisi della destra di governo, sia a quello che ha detto Giorgia Meloni. Perché nel 2008, quando lei decise appunto di unirsi anche formalmente al partito di Berlusconi, diciamo che operò abbastanza una frattura in quell'area politica che lei aveva sempre rappresentato. E poi anche all'inizio del dibattito aveva menzionato il nuovo linguaggio della destra di Salvini. Ma quello che vorrei che lei ci chiarificasse un po'. Non pensa che in realtà il linguaggio della destra sia sempre stato quello che oggi Salvini e anche la Meloni propongano e lei forse si sia un po' anche diciamo illuso sulle sue posizioni nel 2008. Cioè quindi è andato un po' troppo al centro? Ah sì, forse se lei si aspettava che la destra anche estrema della sua area lo seguisse. Faccio rispondere Gianfranco Fini a questa domanda ma anche a questo filmato perché insomma non è molto lontana dall'analisi che fa anche la russa che è stata in questo studio. Abbiamo fatto una domanda proprio sulla vicenda che ricordavi, come ti chiami, perdonami. Stefano, quindi quello che è successo, quali sono stati gli errori eccetera eccetera, sentiamo cosa ci ha detto e poi sentiamo la risposta di Gianfranco Fini. Quello che non rifarei è consentire a Fini di andarsene via dal popolo della libertà, forse ho fatto troppo poco per mantenerlo, quando ancora il governo andava bene e quando c'era la speranza che fosse nato un partito a livello europeo di centro-destra. magari se poi Berlusconi avesse manifestato il proposito di tornare indietro come ha poi fatto con Forza Italia, di non accettare un modello nuovo di partito si poteva anche immaginare un'uscita a destra, mentre il guaio è stato che Fini è uscito al centro. Quindi con Gianfranco Fini... Fini è uscito al centro, Presidente. No ma, vede, Ignazio Larussa che rimane comunque un amico, non so se lui mi considera ancora tale, dice una piccola bugia, io non me ne sono andato dal popolo della libertà, io sono stato dichiarato incompatibile con un comunicato stampa, con l'accusa di deviazionismo, che è una roba che richiama l'Unione Sovietica, perché avevo criticato Berlusconi su alcune questioni, la legalità, la situazione economica del Paese, i diritti civili, poi che queste prese di posizione fossero diciamo più di centro o qualcuno addirittura ha detto di sinistra, piuttosto che di destra è molto molto opinabile perché è di tutta evidenza che dipende da che cosa si intende per una politica di destra. Facevo riferimento prima alla situazione francese, paese che conosco bene, in Francia ci sono due destre, quella di Sarkozy, nessuno in Francia la bolla come una politica centrista o peggio ancora una politica di sinistra, eppure è una politica, quella di Sarkozy, quella dell'UMP francese, che su alcuni temi è molto vicina a quel che io ho cercato di fare in Italia, mi spiego più chiaramente. La legalità è un principio che non puoi calpestare in ragione di interessi più o meno personali, è evidente che come dicevo prima al ragazzo che mi chiedeva un giudizio sul primario condannato per l'omicidio di Ramelli, la giustizia non può essere una giustizia soltanto punitiva, deve essere una giustizia che tende a riabilitare. Qualcuni in Italia continuano a pensare che occhio per occhio, dente per dente, quindi c'è addirittura chi ipotizza di ripristinare la pena di morte, è una concezione della destra che non è la mia. Tutto il tema dei diritti civili, si possono discriminare donne e uomini in ragione della loro opinione religiosa o della loro appartenenza geografica o peggio ancora in ragione delle loro tendenze di carattere sessuali. La destra francese si guarda bene dal prospettarlo, il problema non è se la polemica che io facevo era di centro o come diceva qualcuno addirittura di sinistra, io continuo a pensare che una destra che voglia governare debba avere un retroterra culturale per farlo e soprattutto debba confrontarsi con dei problemi che sono imposti dai tempi in cui viviamo, di fronte ai quali non si può andare a prendere nella biblioteca di famiglia i sacri testi del passato, perché la storia cammina molto in fretta e a sfide nuove servono risposte nuove. Ho la pubblicità, subito dopo voglio sentire... Vedi, sa che cos'è? Aspetti, una sola cosa, sa che cosa non cambia alcuni valori di riferimento? Perché non c'è ombra di dubbio che la destra deve continuare a difendere un interesse nazionale e quindi ad amare la propria patria. Ma come farlo nell'anno di Grazia 2015 è molto diverso rispetto a quello che potevano pensare di fare i nostri padri o addirittura i nostri nonni. Allora, ci torniamo subito dopo la pubblicità. Altre domande da parte dei ragazzi su questa concezione di destra per capire se è vicina o meno a quello che è oggi, la destra, cioè quello che abbiamo visto due giorni fa, sabato per la verità, in piazza e ci torniamo tra pochissimo. Salvini, Meloni, Le Pen, ci mettiamo anche Le Pen e Casa Pound, però ripartiamo dai nostri artigiani italiani, a partire da quello che abbiamo in studio. Tra poco. Presidente Fini, le presento Daniele Giordano, l'avrà visto prima, al nostro atelier del legno. L'ho visto, l'ho visto. Come va Giordano, tutto bene? Bene, bene. Che state a combinar, come si dice a loro? Stiamo facendo sempre un posatoio e poi una gamba per uno scabello. Anche da voi c'è chi parla e chi lavora, vedo. Sempre, sempre. La coppia è questa. Allora, adesso seguiamo bene i lavori, però intanto che ne pensa di quello che è stato detto in questo studio? Beh, la cosa mi è un po' interessante, anche se la sento un po' lontana. Io volevo fare una domanda al Presidente, che saluto. Prima il Presidente ha detto giustamente che l'euro che ho io in tasca è come quello dei tedeschi. I tedeschi pagano meno tasse, io sono d'accordo su questo pienamente. Quello che volevo chiedere è, ma non è che in Germania ci sono dei politici che fanno politica e in Italia abbiamo dei politici mascherati da, non so io, dipendenti dei partiti. Per esempio? Per esempio, io posso dire una cosa. Sono anni che non riesco ad ascoltare un politico perché quello che dice non mi soddisfa, non riesco a trovare una risonanza. Cioè, dicono parole già dette, già risentite e più delle volte sono... Lontane dalla realtà. È sempre una bagarre, uno contro l'altro, un partito contro l'altro. Una roba di cui dovrebbero parlare di più? Ah, della gente normale, anche se ritengo che per loro sia difficile, perché non sono molto vicini alla gente normale. In questo senso Gianfranco Fini è un politico? Credo proprio di sì, e lo dimostra affatto che non è più un politico attiva, ma è costretto a lavorare nelle retrovie. Cioè, quindi, mi faccio capire, secondo lei è un politico vero rispetto ad altri che non lo sono? Credo proprio di sì. Una roba positiva. Certo, perché lui l'ha detto prima, ha iniziato... La pensavo più cattivo. No, bisogna riconoscere la realtà dei fatti. Quindi nessuna domanda, solo una presa di... Sì. No, la domanda è quella, si ritiene anche lui che in Italia ci sia bisogno di politici e non di tecnici. Quindi, politici e non tecnici, Fini. Ma, innanzitutto saluto il maestro, è un maestro più che un artigiano. Grazie. E lo ringrazio anche per quello che ha detto. Lo invito, ma non ce n'è bisogno, a non generalizzare, nel senso che così come tra gli artigiani ci sono tante persone per bene, oneste, che lavorano perché amano il loro mestiere, e poi c'è anche magari qualcuno che va dalle tasse, così è nel mondo della politica, non potrebbe essere diversamente. Quindi generalizzare è sempre sbagliato. Ha ragione quando dice che purtroppo oggi la politica sembra più la curva di uno stadio quando si incontrano le opposte tifoserie, piuttosto che il luogo in cui si discute nel rispetto delle altrui opinioni per dare una soluzione ai problemi. Il tema che angustia il nostro amico, come tutti i lavoratori autonomi, è certamente quello di un carico fiscale sproporzionato. Qual è la ragione storica? Per tanti anni, soprattutto la sinistra, partiva da un presupposto. L'operaio e l'impiegato ricevono la busta paga, non possono evadere il fisco. I lavoratori autonomi che fanno invece la dichiarazione possono anche dichiarare molto di meno di quello che in realtà guadagnano. E dagli anni Ottanta in poi, partendo da questa considerazione, che intendiamoci era anche corrispondente in parte alla verità, in parte e senza generalizzare, il carico fiscale sul lavoro autonomo è arrivato alle stelle. E oggi soprattutto i piccoli imprenditori hanno davvero l'acqua alla gola perché non ce la fanno a onorare gli impegni che lo Stato chiede loro. In una fase storica in cui, ecco perché bisogna guardare alla complessità dei problemi, c'è una concorrenza spietata. La qualità del lavoro del nostro amico è sicuramente unica. Chi è che oggi lavora il legno in quel modo, con quel tornio a pedali, quando ci sono grandi multinazionali che ti mettono a disposizione dei prodotti che sicuramente costano molto di meno, ma... C'è sta roba all'IKEA non si trova per fare dei nomi. Sono fatti tutti con la macchina. Beh, non faccio ovviamente i nomi di una società, ma non c'è dubbio che la qualità del nostro lavoro artigianale è di gran lunga tra le migliori, ma la qualità ovviamente costa. Allora, è una filosofia che secondo me la politica dovrebbe avere. Se vogliamo rilanciare il Made in Italy, se vogliamo garantire la qualità del prodotto e del lavoro, non dobbiamo generalizzare, non possiamo partire dal presupposto che tutti i commercianti, tutti gli artigiani evadono e quindi tartassarli più di quello che fanno altri paesi. Dobbiamo innanzitutto insegnare di più i vecchi mestieri ai giovani. Mi ha fatto piacere sentire prima la scheda quando ho appreso che il maestro insegna ai più giovani l'arte e la manualità nel lavorare in legno. Ma è una tradizione che il giorno che si è perduta completamente ha impoverito il nostro paese. Saremo sempre più globalizzati, saremo sempre meno capaci di competere. Oggi è impossibile stare su un mercato globale con i grandi prodotti industriali standardizzati, tranne alcune eccezioni e anche qui la Ferrari è un marchio italiano nel mondo tra i più famosi e i più rinomati. Possiamo stare sul mercato con una qualità del prodotto che certamente è garantita più da piccole e medie imprese, anche artigianali, piuttosto che da delle catene di montaggio. Presidente, noi siamo in questo... Ecco perché parlo di un modo di vedere la società. Allora, Daniele, innanzitutto, poi torniamo ancora da lei perché voglio ancora sentire la sua opinione. Siamo pieni di cose da chiederle, quindi devo andare più veloce. E non faccio altro di dare la parola ai ragazzi. Da quella parte, chi c'è? Come ti chiami? Prego. Buonasera, sono Elisa e ho 29 anni. Io ho una domanda. In questi giorni il Parlamento sta lavorando su una proposta di legge per quanto riguarda il reato di tortura da inserire all'interno del nostro codice penale. Faccio un passo indietro. Quando lei, Presidente Fini, era Vice Presidente della Camera e comunque ha seguito da vicino le questioni del G8. Sappiamo che molte pene sono state alleggerite del Consiglio del Consiglio, proprio perché alcune pene sono state alleggerite per quanto riguarda Bolzaneto, per quanto riguarda appunto la Diaz perché noi non abbiamo questo reato all'interno del codice penale. Ecco, io volevo farle due domande. Una un pochino più a livello umano. Si è cambiato un pochino il suo approccio per quanto riguarda i fatti di Genova visto che allora un pochino era vicino al pugno di ferro che la polizia ebbe con i manifestanti e poi cosa pensa appunto del fatto che verrà introdotto il reato di tortura all'interno del codice penale anche alla luce che Salvini si è dichiarato contro questa introduzione. Raccogliamo anche un'altra domanda e poi sentiamo la risposta. Buonasera, sono Ilaria, ho 25 anni e volevo chiedere sempre in tema di diritti civili qual è la sua posizione all'interno del dibattito sull'eventuale abolizione dell'ergastolo? Prego, Presidente. Parto dall'ergastolo. Rimango contrario ad abolire l'ergastolo anche perché come dicevo prima il fine pena mai è più teorico che reale. Io non ho una concezione, dicevo, repressiva però equitativa sì nel senso che se sei condannato a 30 anni beh non è che dopo 17 anni tra una ragione e l'altra esci dalla prigione perché così facendo è la vittima che finisce per non avere giustizia e ci sono tanti casi purtroppo che dimostrano come la pubblica opinione non comprende e credo di capire le ragioni per cui non comprende lo Stato finisce per essere o per apparire molto generoso nei confronti dei delinquenti e al contrario inflessibile nei confronti dei cittadini per bene. Quindi è sempre un problema di equilibrio quindi di fronte a stragi e ferate di fronte a crimini che in qualche modo rivoltano la coscienza io ritengo che l'ergastolo che poi sono 35 anni al massimo che è una vita intera dopo 35 anni di carcere è chiaro che non è che hai più grandi prospettive davanti a te sia una pena più che giusta. Il reato di tortura non credo che si possa essere contraria all'introduzione di questa fattispecie mi auguro però che la norma venga scritta in modo chiaro perché che cos'è la tortura nell'anno di Grazia 2015 non è certamente la tortura che veniva inflitta nel Medioevo credo che i ragazzi sappiano che cos'era la bambola di Norimberga si veniva chiusi dentro a una specie di gabbia che riproduceva una figura femminile di ghisa o di ferro e poi si veniva aarsi vivi all'interno di quella gabbia nessuno pensa alla tortura che pur c'è nel mondo perché non so se avremo modo di parlare di quello che sta accadendo nel rapporto con l'Islam l'Isis questi scenari che veramente ci fanno ritornare al Medioevo una volta ben definita la tortura è evidente che non può che essere considerata un reato anche se nel nostro codice oggi non c'è in particolar modo se viene compiuto da coloro che dovrebbero avere il compito di tutelare la legge non di violarla quanto alle vicende genovesi se c'è qualcuno che ha sbagliato è giusto che paghi è vero che ci sono state condanne forse inferiori rispetto a quel che si riteneva giusto da parte della pubblica opinione devo dire però che pur non avendo avuto alcuna responsabilità diretta o indiretta io ero a Genova per l'incarico che ricoprivo ma non avevo certo un ruolo operativo in quelle drammatiche giornate devo dire che le forze dell'ordine furono chiamate in quella circostanza ad un impegno veramente di enorme responsabilità e va anche ricordato perché altrimenti si dimentica una pagina dolorosa della nostra storia che ci fu una sola vittima ed era un carabiniere che era un ragazzo che fu ucciso da un carabiniere mentre tentava di assaltare una camionetta e in tante altre circostanze in quegli scontri purtroppo le vittime erano uomini delle forze dell'ordine ripeto è sempre una questione di equilibrio chi ha una divisa oggi è spesso messo all'indice non deve essere così ma al tempo stesso chi ha una divisa se sbaglia deve pagare allora lei ha parlato al di là del fatto di Genova sì ci sono casi analoghi lei ha parlato la vicenda di quel ragazzo di quel tifoso che è stato ucciso non in uno scontro ma addirittura in autostrada le vicende collegate al dramma della famiglia Cucchi di quel ragazzo tossicodipendente che certamente è stato sottoposto se non a torture a Sevizi il chi sbaglia paghi deve valere sempre sia per chi attacca le forze di polizia sia se le forze di polizia vanno al di là di quello che è il dovere che hanno in quel momento lei ha parlato di equilibrio e dopo la pubblicità le vorrei far sentire lo commentiamo insieme quello che ha detto Matteo Salvini questa mattina a Sette Gold da questa settimana c'è un appuntamento nazionale della Syndication Sette Gold con aria pulita con Simone Arrigoni c'era Matteo Salvini e a proposito di equilibrio anche nelle alleanze che si possono avere in politica ci ha detto delle cose interessanti a tra poco Bentornati ve lo annuncevo prima questa mattina c'è stato Salvini a Sette Gold e gli è stato chiesto dalla Malpezzi del Partito Democratico se in qualche modo aveva problemi ad andare in piazza evidentemente ha risposto è no con i fascisti così vengono chiamati di Casa Pound vediamo questo pezzettino della trasmissione di Simone Arrigoni a me ha fatto impressione vedere Casa Pound in piazza con Salvini dire questo però perché sono fascisti che significato ha questa sua alleanza con Casa Pound? cosa rappresenta? ma sui progetti io mi alleo anche con Paperino con Paperino con i Boy Scout ha detto che con Alfano non si allea quindi non si allea proprio con tutti no con Paperino si con Alfano il fascismo non tornerà il comunismo auspicabilmente va messo in soffitta altrettanto perché sono stati due disastri il fascismo e il comunismo dal mio punto di vista quindi la storia non si ripete mai nella stessa forma siamo nel 2015 non tornerà Mussolini non torneranno le squadracce e l'olio di ricino non penso di avere né la voglia né il fisico né l'interesse a fare quella roba lì semplicemente combatto sui progetti combatto sui progetti mi alleo con chiunque dice Salvini ragazzi come la vedete sta cosa? sì io mi chiamo Simono ho 24 anni ma i progetti di Salvini sono poi a livello di politica economica sostanzialmente gli stessi che si trovano anche in una certa sinistra e in una certa destra diciamo più tradizionale più a destra che a sinistra occhio sì oddio in realtà destra e sinistra su molti temi di politica economica combaciano quindi sei d'accordo con questa cosa mi alleo con chiunque? lui è libero di fare quello che vuole il problema è il progetto il progetto di Salvini che è il progetto della sinistra personalmente non mi convince soprattutto a livello di politica perché non ti convince? perché sono progetti che a livello economico a livello sociale a livello politico si sono rivelati fallimentari in Europa e la domanda che volevo fare al presidente infatti era su questa lunghezza d'onda lei non pensa che io personalmente anche io sono stato un sostenitore di future libertà nella breve finestra che future libertà ci ha concesso lei non pensa forse che l'Italia come altri paesi in Europa ma soprattutto l'Italia non sia pronta a livello proprio di opinione pubblica per delle politiche economiche di stampo più europeo di stampo più promercato perché semplicemente queste idee non hanno un seguito è chiaro presidente lei tra l'altro un po' ha risposto prima quando parlava della Francia su questo no? sì sì no la domanda è molto chiara e temo che tu scusami se ti lo del tu abbia ragione nel senso che non c'è dubbio che anche storicamente in Italia non è mai stata molto forte quella componente della società che pensava ad esempio che il ruolo dell'economia nello Stato dovesse essere minore rispetto dello Stato nell'economia chiedo scusa rispetto a quello che era e non era solo il blocco che un tempo si chiamava social comunista ti parlo di 30-40 anni fa le partecipazioni statali cioè lo Stato che era il proprietario delle grandi società che producevano i panettoni era più un'invenzione della democrazia cristiana che del partito comunista ogni paese è figlio della sua storia quindi una componente chiamiamola liberal-democratica in Europa è sempre stata maggiore rispetto a quello che è stato in Italia ci ho detto anche se temo che tu abbia ragione non mi rassegno perché ci sono due modi per rapportarsi alla società o seguire quelli che sono gli umori della società e quindi in qualche modo assecondarli o cercare al contrario di cambiarli da noi si fa un abuso della parola leadership nella lingua inglese c'è anche l'espressione followership io ho l'impressione che spesso in Italia la politica tenda più a seguire quello che è l'umore e qualche volta anche la pancia della società piuttosto che a cercare di guidarla può apparire presuntuoso da parte della politica guidare la società ma una funzione una valenza pedagogica io credo che la debba avere la faccio parlare Gianfranco Fini anche con una persona che è collegata con noi da molto lontano noi tutte le volte che apriamo le telecamere le mettiamo in funzione andiamo in onda con Funamboli parliamo con gli italiani che hanno deciso di lasciare l'Italia e guardano l'Italia dall'estero ci colleghiamo con Capoverde c'è per noi e vive lì da tempo non è lì per noi in realtà Carmen Vurchio benvenuta grazie grazie buon pomeriggio a tutti buon pomeriggio Presidente Fini che ci fai a Capoverde perché te ne sei andata da questo paese io sono fuggita dall'Italia mi piace dire questo anche se in realtà non ho mai avuto problemi con la legge quindi non sono una latitante ma sono scappata perché purtroppo il nostro è sempre stato il bel paese ma con gli anni tutto è cambiato e nel 2010 io ho iniziato a sentire sulla mia pelle l'aria di crisi e a viverla proprio intensamente ed è una cosa che mi è rimasta dentro che mi sono portata anche qui a Capoverde lavoravo in televisione e vedevo che i miei colleghi perdevano il posto di lavoro perché per la crisi attorno una politica che non riusciva più a dare risposte ai cittadini e ci ha tolto praticamente la speranza di un futuro ho deciso di andare via perché io volevo e voglio avere un futuro e in Italia questo in questo momento non è possibile e la colpa non è solo della politica ma è soprattutto della politica sono contenta di poter parlare con il presidente Fini perché noi avevamo un centro-destra presidente avevamo una destra ma anche un centro-destra che funzionava lei nel momento in cui secondo me ha deciso di sposare Forza Italia ha commesso un errore immenso e ne sta pagando ancora oggi le conseguenze perché tutto si è sfasciato adesso abbiamo Salvini che però è della Lega Nord non può rappresentare il centro-destra e sicuramente non rappresenta la destra il fatto che è chiaro mi vada bene voglio sentire Fini su questa cosa dell'errore è il mio parere no io l'ho detto pubblicamente in tante circostanze mi sentite? sì sì abbiamo un piccolo ritardo lo spiego per chi ci segue da casa dicevo prego no dicevo io l'ho detto pubblicamente confermo l'errore che non perdono a me stesso è stato proprio quello di non comprendere che non l'alleanza con Berlusconi quando ognuno è padrone a casa sua le cose si possono anche indirizzare sul binario giusto ma la fusione tra alleanza nazionale e Forza Italia avrebbe determinato una condizione per la quale o sei d'accordo con Berlusconi e lo applaudi oppure a lungo andare o sei costretto ad andartene o ti caccia questo è l'errore che io non perdono a me stesso voglio però fare i complimenti a Carmen se ho capito bene il nome per il coraggio che ha avuto perché tanti dicono me ne vado però poi non tutti lo fanno chi lo fa merita comunque rispetto purtroppo non è una situazione solitaria anzi sono tantissimi coloro che oggi lasciano l'Italia per cercare fortuna e lavoro altrove anche qui c'è qualche cosa di positivo in questo desiderio soprattutto dei giovani di andare oltre le frontiere di avere esperienze internazionali di imparare le lingue noi siamo uno dei paesi che per responsabilità della nostra scuola soprattutto ha una padronanza linguistica tra le più basse d'Europa se non del mondo è anche una tragedia attenzione perché stiamo però arrivando ci sto arrivando attenzione però perché stiamo arrivando alla patologia è positivo che con i progetti Erasmus con il desiderio di esplorare strade nuove tanti giovani cerchino di affermarsi fuori dai confini nazionali la patologia è che molti tra costoro poi non rientrano e soprattutto la patologia è che siamo in una fase in cui c'è una perdonatemi l'espressione esportazione di cervelli i centri di ricerca glielo dico da ex ministro degli esteri del mondo sono pieni di talenti italiani non soltanto in Europa ma davvero in ogni parte del globo e quindi se in una società come la nostra che tra l'altro è anagraficamente tra le più vecchie d'Europa sono i giovani ed in particolar modo quelli più dinamici quelli più preparati quelli che vogliono in qualche modo prendere di petto il mondo ad andarsene costretti ad andarsene beh allarme rosso per il paese io cosa dovrebbe fare l'Italia la politica italiana in una parola sola investire di più nella ricerca e nello sviluppo tutti lo dicono nessuno lo fa tutti lo dicono e nessuno nessuno lo fa ma sa perché ma sa perché sa perché perché quando le risorse sono limitate e purtroppo le risorse italiane sono limitate hai delle priorità perché investire di più nella ricerca e nello sviluppo potrebbe significare investire qualcosa in meno nell'assistenza sanitaria che è già ridotta quindi non ne usciamo più nelle pensioni che già sono state il problema è che se non produciamo più ricchezza avremo sempre una coperta drammaticamente corta io ho la pubblicità prima però vorrei chiedere a Carmen una cosa che ti manca dell'Italia una mi mancano tante cose dell'Italia l'Italia è un paese bellissimo noi abbiamo storia abbiamo cultura ci sono i monumenti la nostra cultura enogastronomica mi manca tantissimo torneresti o stai bene lì non mi manca la politica non ti manca la politica io l'ho sentito dire tante ma tante ma tante di quelle volte però la situazione è ferma ho la pubblicità grazie Carmen tanti saluti a Capoverde e a te c'è la pubblicità grazie a voi tra poco torniamo con ancora domande e poi ci sono delle cose anche dal web vero Steffi a tra pochissimo bentornati a Funamboli l'angolo del artigiano dell'Italia che lavora oggi è governato dal maestro Daniele che sta a fa? che è questa? qualcosa deve girare preferisco far girare le trottole sono trottole che fate voi? certo quanto lavoro c'è per fare una cosa del genere? dipende ci vuole 5-10 minuti mezz'ora 5-10 minuti questo a cosa serve? questa è la gamba di uno sgabello gamba di uno sgabello ricavata da un trotto quanto ci vuole a farlo? su questo tornio ci vuole mezz'oretta quanto ci vuole imparare un mestiere così? allora impararlo non basta una vita però bisogna iniziare basta un giorno per riuscire a fare questa ci si mette un giorno ecco vorrei far vedere il suo collega che martello sta usando che neanche nei cartoni animati va qua cosa serve questo? che ci fate? però poggio come funziona? serve semplicemente per picchiare il legno non c'è microfono non c'è microfono facciamo dire da Daniele questo serve per picchiare il legno contro legno oppure picchiare il ferro perché il ferro sul ferro si rovina invece il ferro con il legno si consuma il legno senta quanto rispetto a quello che si è detto questa sera la politica quanto è distante secondo lei dalla sua quotidianità? abbastanza perché? abbastanza perché io vivo in un paese tranquillo dove ancora l'etica e la morale sono importanti e invece? in politica l'etica e la morale sono parole dimenticate un politico che non è etico né morale? un politico che non è etico ma io non voglio prendere le parti però Salvini scusate i termini ma è ridicolo Salvini è ridicolo secondo lei? io sono uno scout ma paragonato a Paprino perché sono tutti elettori di Salvini ne abbiamo trovato uno no ma che va bene intanto continue tra poco quello da voi Stefi che succede sul web? allora a proposito di italiani all'estero di fughe come quella di Carmen scrive Barbara su Facebook ha due figli di 14 e 15 anni pensano già all'estero per il loro futuro come si trasmette il concetto di patria chiede a Gianfranco Fini con questa Italia nel 2015 questa è una domanda poi invece volevo citare lo stesso Gianfranco Fini che a sua volta cita Storace con un tweet di qualche giorno fa in cui dice lo cito volentieri perché condivido la sua battuta che descrive ottimamente la situazione nel centrodestra si Salvini chi può su questo Fini volevo chiederle anche come sono i suoi rapporti con Storace perché una volta erano burrascosi mi sembra adesso invece vi scrivete via Twitter vi a Facebook com'è? No no ma tranne che in alcuni casi i miei rapporti sono più o meno buoni con tutti coloro che hanno buoni rapporti con me nel senso che non credo di pur fra i tanti difetti che ho osservare particolare rancore Storace è un battutista formidabile e quella battuta citando la fonte l'ho ripresa proprio perché fotografa la situazione si Salvini chi può torniamo invece a cose più serie l'amor di patria si trasmette con l'esempio patria vuol dire terra dei padri se noi fossimo un po' più coscienti dell'esempio che hanno dato alle generazioni successive le generazioni precedenti quindi i nostri padri sarebbe più facile dire ai giovani che cosa significa oggi amare la propria terra amare la propria patria la nostra è una terra che ha conosciuto il dramma della emigrazione già dalla metà del 1800 i ragazzi che oggi girano il mondo quando vanno a New York mi facciano la cortesia se non ci sono mai andati di andare a visitare Ellis Island il museo dell'emigrazione quei calabresi quei siciliani che arrivavano con i bastimenti erano figli della nostra terra se ne andavano per cercare da loro è un modo per dare quanti muratori quanti gelatai è un modo per dare l'idea di patria andare a vedere Ellis Island sì c'è è il senso è il senso delle radici allora io vorrei un popolo che non ha la coscienza della sua memoria storica è come un albero che non ha le radici posso dire invece una cosa per rispondere a quella signora quella ragazza che giustamente diceva ma lo dicono tutti investimenti sviluppo ricerca io dicevo le risorse sono poche a meno che ecco la proposta che faccio non ci sia un'inversione radicale di tendenza rispetto al cosiddetto federalismo per quel che riguarda la spesa pubblica mi spiego a forza di spending review le spese dello Stato centrale sono state davvero drasticamente ridotte la spesa pubblica che continua ad andare fuori controllo è quella delle regioni quella che Renzi vuole tagliare sono almeno dieci anni ma vuole tagliarle però contemporaneamente presenta una riforma della Costituzione che rende le regioni ancora più centrali nella nostra architettura istituzionale quindi c'è almeno ai miei occhi un certo controsenso la devo interrompere perché ho 5 minuti e sono pieno di domande da fare allora se lei è d'accordo le raccolgo le raccolgo e chiedo anche ai ragazzi di essere sintetici poi le chiedo una risposta partiamo da Veronica buonasera sono Veronica Rivalta 21 anni volevo fare una piccola domanda perché non si è dimesso dalla presidenza della Camera? andiamo avanti con le domande poi sentiamo le risposte insieme chi è il prossimo? sono Marta 22 anni volevo appunto parlare della Libia di cui non abbiamo parlato ancora oggi e come avrebbe agito rispetto a Gentiloni appunto in qualità di ministro degli affari esteri e cosa pensa dello Stato islamico è davvero una minaccia per l'Italia? abbiamo già fatto una domanda da due ore però guerra o non guerra la riassumiamo così? l'ultima domanda e poi sentiamo le risposte io invece al presidente Fini volevo chiedere innanzitutto sono Sinan di Milano 22 anni sono di origini giordane e sono di fede musulmana e collegandomi alla domanda della mia collega volevo anche chiedere la sua idea di destra rispetto innanzitutto all'argomento dell'immigrazione e prima l'ha anche esplicitato e soprattutto rispetto all'Islam visto che al di là del fatto che comunque sono di un'ideologia un po' diversa dalla sua però esponenti del centro-destra e della destra hanno detto negli ultimi mesi nelle ultime settimane delle fesserie assurde sulla mia dottrina quindi Islam guerra alla Libia e dimissioni partiamo dalla prima domanda presidente e lo so mi rendo conto abbiamo due minuti mi spiace che siano arrivati alla fine perché soprattutto il tema sollevato dal giovane Giordano è il tema che sto approfondendo proprio in queste settimane il rapporto tra l'Occidente e l'Islam questione complicatissima allora vado per flash se io mi fossi dimesso da presidente della Camera probabilmente avrei fatto il mio interesse perché avrei guidato il partito magari il risultato sarebbe stato migliore ma sarei venuto meno ad un impegno che avevo preso io sono stato contestato in mille modi ma nessuno mi ha detto sei stato parziale nella gestione della Camera dei Deputati il presidente della Camera ha il dovere di essere imparziale la questione relativa alla Libia la Libia è un paese oggi in preda alla guerra civile si scontrano delle tribù ci sono due governi l'un contro l'altro armato quello legittimo agli occhi della comunità internazionale di Tobruk e quello molto vicino ai fratelli musulmani di Tripoli l'Isis il cosiddetto stato il califato sta mettendo qualche radice in Libia è una situazione esplosiva il terrorismo non si sconfigge con le chiacchiere ma un eventuale intervento armato deve essere un intervento condotto non solo nell'ambito dell'ONU ma con la presenza di forze armate che siano inviate anche da stati musulmani il ruolo dell'Egitto è un ruolo centrale come il ruolo della Giordania come il ruolo degli Emirati guai se in Libia andassimo soltanto noi italiani saremo visti come i colonialisti che dopo il 1911 tornano a occupare quel paese e se andasse soltanto l'Europa sarebbe vista come una sorta di crociata occidentale contro l'Islam il terrorismo si combatte insieme paesi arabo musulmani e paesi europei o occidentali i cinque pilastri dell'Islam il giovane che lì li conosce meglio di me perché è la sua fede mi permetto rapidamente di richiamarli a coloro che non conoscono la materia vale a dire la professione di fede la preghiera il digiuno il pellegrinaggio alla Mecca e la zakat vale a dire l'elemosina o meglio l'atto di solidarietà di chi può nei confronti di chi ha meno non rappresentano un pericolo va da sé sono precetti di carattere religioso quindi morale il pericolo non è l'Islam il pericolo è la tentazione che alcuni gruppi radicali o estremisti non necessariamente salafiti dell'Islam hanno è di imporre la loro visione dell'Islam all'intero mondo musulmano e di considerare l'Occidente come il nemico da combattere io direi è una questione che meriterebbe me lo permetta una puntata da sola faccio solo una riflessione flash faccio una riflessione flash oggi pensi al paradosso il paese che è in prima linea più di chiunque altro contro i tagliagole dell'Isis il califato è la Siria in Siria c'è al potere un dittatore come Assad contemporaneamente uno dei paesi musulmani tradizionalmente più vicino all'Occidente e agli Stati Uniti l'Arabia Saudita è un paese in cui una donna non può guidare l'automobile e se ci va un cattolico non trova una chiesa in cui pregare perché le chiese sono vietate è un tale paradosso il rapporto tra l'Occidente e il mondo musulmano da rendere indispensabile parlare a ragion veduta e differenziare i vari livelli il problema non è l'Islam il problema è la strumentalizzazione politica o se vuole statuale che dell'Islam fanno alcuni paesi è chiaro lo prendo come un impegno lei ha detto ci vorrebbe una puntata intera per parlarne e allora magari l'aspettiamo direttamente anche qui ai nostri studi di Milano ma prima di salutarci naturalmente grazie volentieri volentieri l'aspettiamo quando vuole c'è il riassunto prima di ascoltare questo però perché bisogna vedere cosa dice della nostra puntata sentito dal rap di Valès vai Val politica italiana come faccio a vantarmene quando è un politico che incita ad andarmene se l'avete sentito l'ha detto Carmen che se n'è andata a Capoverde merita rispetto se da fine a Salvini la destra le sue trasformazioni da fine a Salvini guarda caso che rimassa è rimasta la Meloni se la Meloni ok in diretta la valora d'ordine contegno ok però volevo chiedere al falegname se poteva costruire una figa di legno ok se questa rima si è un gol da centrocampo se vuole fare una figa di legno tranquillo le do io lo stampo ok sono un giovane senza futuro sto andando dritto contro il muro se se siamo qui disperazione allo stato puro l'Italia ha preso una brutta piega perché la politica italiana è una sega yes allora grazie Valesse grazie davvero presidente Fini ha detto anche di peggio Valesse quindi quando verrà qua lo sentirà dal vivo no no ma guardi che se se un rapper non ti piglia un po' in giro non è un rapper anch'io non ho sentito di peggio grazie davvero Gianfranco Fini grazie a tutti voi ragazzi per essere stati dei nostri grazie Stefi grazie Valesse grazie a chi fa andare avanti l'Italia i rappresentanti questa sera sono Daniele e Silvano grazie davvero per essere stati dei nostri grazie a voi che ci avete seguito posso dire una cosa un secondo solo posso dire una cosa sola a Daniele al maestro non so se conosce un suo collega che mi onora della sua amicizia che è un maestro artigiano Codognotto è un artista del legno veneto di origine e che ha un laboratorio a Roma di fama di fama si conosce ho visto ho visto all'opera ecco ho visto all'opera un collega con lo stesso attrezzo quel martello di legno poi vi diamo il numero di telefono così vi parlate anche in privato grazie Presidente Fini grazie a voi anche settimana prossima l'appuntamento è alle 23.15 23.20 a presto buonanotte